preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dalla santa casa di loreto preghiamo l'angelo se il santo rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria donna del sì per le vocazioni al matrimonio al sacerdozio e alla vita consacrata l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e della concepì per opera dello spirito santo ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte eccomi sono la serva del signore si compie me la tua parola ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte eccomi sono la serva del signore di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia o padre tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo figlio per la sua passione la sua croce con l'intercessione beata vergine maria guiderci a gloria della risurrezione per cristo nostro signore gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come al principio e ora e sempre nei secoli dei secoli dei secoli dei secoli ame ave piena di grazia ave vergine maria nel primo mistero della gioia meditiamo l'annuncio dell'angelo a maria paternose quei sinceri santifici il nome in tu a te bene a te regno un tu un fia voluntas tua sicut in cielo et in terra pane nostrum quotidianum da nobis sodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nosa malo amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen sancta maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amén maria regina della pace prega per noi prega per noi prega per noi lodato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe e maria nel secondo mistero della gioia meditiamo la visita di maria santa elisabetta padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amén ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amén ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amén ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amén amén santa maria piena di grazia prega per noi peccatori santa maria piena di grazia il signore è con te santa maria madre di dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora e sempre Nei secoli, nei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace Prega per noi, prega per noi Lodato sempre sia In santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria Nel terzo mistero della gioia Meditiamo la nascita di Gesù a Betlemme Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori Non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the home, Jesus Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Glorie al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio E ora è sempre Nei secoli dei secoli Amen Maria, Regina della pace Prega per noi Prega per noi L'ho dato sempre sia In Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria Il quarto mistero della gioia Meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come in cielo, così in terra Dàci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti E non abbandonarci alla tentazione E non abbandonarci alla tentazione di Gesù al Tempio Ave Maria, cheia di grazia O Senhor è convosco E non abbandonarci alla tentazione di Gesù al Tempio E non abbandonarci alla tentazione di Gesù al Tempio E non abbandonarci alla tentazione di Gesù al Tempio E non abbandonare alla tentazione di Gesù al Tempio Adesso è l'ora della nostra morte, amo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amo. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero della gioia, meditiamo il ritrovamento di Gesù tra i Dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, e benedito è il frutto di tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, e benedito è il frutto di tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, e benedito è il frutto di tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, e benedito è il frutto di tuo vientre, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, lena, eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, 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 eres di grazia, il Signore è contigo, benedita tu eres entre tutte le donne, Gesù. Dio te salve, Maria, lena, 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 Grazie a tutti. Come ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia, in Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve, Regina. Mater misericordiae, vita dulce do, estes nostra salve. A te clamamos, ex unes fili lieve. A te suspiramos, gementes et lentes, in ac lacrimanum valle. Eia, Ergo, Advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte. E Gesù, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc esilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli infermi, Prega per noi, Rifugio dei peccatori, Prega per noi, Conforto dei migranti, Prega per noi, Consolatrice degli afflitti, Prega per noi, Aiuto dei cristiani, Prega per noi, Regina degli angeli, Prega per noi, Regina dei patriarchi, Prega per noi, Regina dei profeti, Prega per noi, Regina degli apostoli, Prega per noi, Regina dei martiri, Prega per noi, Regina dei confessori della fede, Prega per noi, Regina delle vergini, Prega per noi, Regina di tutti i santi, Prega per noi, Regina del rosario, Prega per noi, Regina della famiglia, Prega per noi, Regina della pace, Prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concede ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidici alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine, gloriosa e benedetta. Agnello di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, pregi, governa me, che ti fui affidato dalla Pietà Celeste. L'eterno riposo donna loro, Signore, sclenda ad essi la luce perpetua, riposino e pace. Su di voi, sulle vostre famiglie, in modo particolare, sui sofferenzi, sui ammalati, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedico e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Laudate, 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 Maria. Laudate, 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 Maria. Laudate, 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 Maria. Laudate, 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 Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie per aver guardato insieme con noi. 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 Grazie a tutti